Bocic, un ingresso in campo, il tuo positivo, c'è stato il cross per il gol di Maniero, insomma hai cercato di dare una scossa alla squadra, però non è bastato. Sicuramente sono entrato ad aiutare i miei compagni, ho cercato di fare il 100%, speravo di fare qualcosa in più, di aiutare la mia squadra a pareggiare, anche vincere. Non è andata così e adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e allenarci il 100% ogni giorno di allenamenti. È chiaro che i giocatori con le tue caratteristiche non le avevamo visti, il primo passo così rapido, puntare l'uomo e creare la superiorità, se è stato forse un po' troppo poco utilizzato in questi primi mesi? Alla fine questa cosa non decido io, decido l'allenatore. Stavi sempre bene, eri sempre in condizioni? Io mi alleno al 100% a essere a disposizione della squadra, poi il mister decide chi giocare e chi non giocare. Sicuramente lui avrà visto che devo ancora migliorare e sono sicuro che devo ancora migliorare, mi fido di lui ciecamente e so che lui mi potrà far crescere molto. Hai detto che bisogna guardare avanti, bisogna migliorare, a livello personale c'è stata questa buona prova nel secondo tempo, però in generale la squadra oggi ha deluso ancora una volta, soprattutto dinanzi al proprio pubblico. Cosa vi ha detto Zauri a fine partita? Sicuramente non abbiamo giocato come volevamo e noi in questo momento, come ho già detto, dobbiamo allenarci bene per giocare bene la prossima partita contro il Pordenone e vincere. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo sulle tue caratteristiche, perché sei molto rapido, punti l'uomo. Tu ti trovi più a tuo agio nel 4-3-3, quindi come esterno offensivo, o puoi far bene anche il 4-2-3-1 come è fatto oggi, il 4-4-2 che dir si voglia? Se potessi scegliere tu il miglior Milos Bocic, dove si vede? Bocic. Io non scelgo, per me... No, ma dove ti piace di più una cosa così e non è polemica? 4-3-3, ma anche 4-2-3-1 va bene lo stesso.